Ciao a tutti, siete pronti per una nuova puntata di un posto al sole? Io non vedo l'ora di vedere che cosa succederà. Andiamo intanto a leggere che cosa dico in anticipazione che riguardano l'episodio che andrà in onda venerdì 11 ottobre 2024. Guido e Mariella avranno uno scontro sulla cifra da destinare al mantenimento del piccolo lollo. Abbiamo visto che Guido sta facendo un po' i conti sul fatto di vivere da solo tutte le spese che deve avere e quindi sicuramente insomma avranno questo scontro riguardo alla cifra da dare. Vediamo un attimo cosa succederà. Complice, un cattivo consiglio di Michaela incalzato dal professore, Jimmy si troverà nei guai e potrebbe crearli anche al povero Camillo, il suo compagno di scuola. Abbiamo visto che l'altro giorno, Jimmy insomma in questo periodo è un po' la testa fra le nuvole che sta pensando a Amina, insomma sta guardando troppo i social, sta studiando poco, ha chiesto aiuto a Camillo per quel compito in grassa sorpresa che hanno dovuto fare, gli ha fatto copiare e sicuramente finirà nei guai e vediamo un attimo se coinvolgerà anche il suo amico Camillo. Vediamo, sono curiosa. dopo un'iniziale riduttanza convinto da Rosa, Damiano potrebbe decidere di ascoltare quello che ha da dirgli Felice Cascella. Abbiamo visto che il salumiere che aveva incastrato Damiano dicendo che Damiano stava prendendo dei soldi da lui, lo stava estorgendo dei soldi perché era stato minacciato da Torrente, dai suoi Scagnozzi e invece ha parlato con Rosa, vuole rivelargli qualcosa per poter catturare il boss Torrente, Rosa l'ha invitata a casa sua, ha chiamato di corsa Damiano che si è presentato. Vediamo un attimo se Damiano ascolterà quello che ha da dirgli e se sarà davvero un aiuto per cercare di scovare il boss Torrente o se vorrà incastrarlo un'altra volta. Sono curiosa di vedere anche questa cosa qui. Secondo voi cosa succederà? Cosa vorreste che accada ai vari personaggi? Iscrivetevi nei commenti mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube e devo essere per la squadra anche perché abbiamo tantissimi contenuti sul posto al sole ma anche su tanti altri argomenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Marilena Laiena del canale YouTube e devo essere per la squadra. Buona puntata a tutti quanti! Grazie!